Abbiamo lasciato il nostro Giorgi nel 1938, ha 26 anni e pubblica appuntate su un giornale in giro per le Americhe, che non è nient'altro che gli appunti di quel suo viaggio compiuto l'anno prima, appunto nei vari stati sudamericani e anche la sua esperienza negli Stati Uniti. Ci mostra in questo suo diario di viaggio non soltanto i luoghi, i colori, le sensazioni, le persone di tutto il continente sudamericano, ma anche quello che lo farà diventare un esperto, quelle sensazioni, quella inesauribile fonte di entusiasmo e di vitalità che si ritrova appunto girando per l'America Latina. Lui è uno scrittore già noto in patria, anche in alcuni altri paesi del Sud America. Cacao, il suo romanzo di cui abbiamo parlato ieri, è infatti stato tradotto in spagnolo e quindi ha avuto una diffusione maggiore con consensi di critica e di pubblico. Ovviamente Amadu parla e scrive in portoghese perché è brasiliano, ma chiaramente per conquistare il mercato latinoamericano è il castigliano, quindi lo spagnolo, la lingua più diffusa e quindi la traduzione in spagnolo delle sue opere è quella che gli apre diciamo tutto il mercato sudamericano. Lui, abbiamo accennato ieri, si è da poco laureato, collabora a diverse pubblicazioni e durante le impressioni di questo suo viaggio compiuto dal Brasile all'Uruguay, da Montevideo a Buenos Aires, da Buenos Aires al Cile attraverso la cordigliera delle Andi e poi il Pacifico, il Peru, Lima, il Messico. Conosciamo appunto in queste pagine anche la sua dimensione umana, le sue manie, le sue paure, i suoi facili entusiasmi, le sue avversioni, la passione per la politica quasi come impegno morale nei confronti degli altri e l'amore, l'amore infinito per la sua terra, la sua disponibilità e curiosità verso ogni cosa e ogni persona e la sua capacità incredibile di trovare sempre un qualche cosa per poter sorridere e vedere con il sorriso tutto quello che ci circonda. nel 1938 era uscito ancora una volta da prigione e era stato inviato a Rio, dove poi dopo poco però potrà trasferirsi liberamente a San Paolo. Il suo libro Sudore viene tradotto anche in inglese e Giubiabà, quella Giubiabà è stato molto vicino anche al Condomblé e agli stregoni e a tutto quello che è il Brasile di origine africana. Giubiabà verrà edito per la prima volta a New York e in Francia da Gallimard. Insomma, in quegli anni tutto il mondo stava scoprendo quest'autore, come dicevo, salvo in Italia per i motivi capibili. Nel 1939 esercita un'intensa attività politica contro le torture dei prigionieri politici e diventa anche redattore capo di alcune riviste. Questo quadro che vi sto facendo vedere è proprio un suo ritratto di quegli anni che è di un altro grande pittore brasiliano, Chirino da Silva, che appunto l'ha ritratto in questa sua espressione che fa parte appunto del suo essere. Amado in quegli anni è ancora innamorato di sua moglie, scrive delle poesie dedicate a lei che poi diventeranno un libro, l'unico libro di poesie che pubblicherà. La moglie è diventata, come abbiamo visto, madre della sua prima figlia, ma lui è molto preso dalla sua militanza comunista e per sfuggire alle persecuzioni della polizia politica di Vargas, rimane in esilio nell'America Latina, in Argentina e in Uruguay poi per almeno due anni. Quando arriva a Città del Messico nel 1941 stringe un'amicizia molto profonda con Anna Segers, questa donna scrittrice tedesca che è fuggita in Messico per sfuggire ovviamente il regime nazista. Passerà molti pomeriggi insieme a lei e insieme a un altro amico che diventerà il più grande amico di Giorgi, Pablo Neruda. Torna in Brasile nel 1942, viene di nuovo arrestato appena sbarca a Porto Alegre e da lì viene tradotto a Rio de Janeiro, ma la polizia decide poi di inviarlo a Salvador dove rimane agli arresti domiciliari. Però le cose anche se faticosamente stanno cambiando anche in Brasile. Dopo l'attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre del 1941 e la distruzione in quell'occasione anche di alcune navi brasiliane, Vargas nel 1942, vincendo un po' le opposizioni di molti filonazisti che fanno parte del suo governo, si schiera così a sorpresa con gli alleati contro l'asse e organizza addirittura un corpo militare, la FEB, che sarà attivo anche sul fronte italiano, darà manforte agli alleati per la liberazione dell'Italia. Quindi c'è un po' di Brasile anche nella liberazione dal nazifascismo in Italia. Amado a seguito di questi sconvolgimenti politici torna in libertà e nel 1943 pubblica un altro suo romanzo, forse uno dei romanzi più famosi di questo periodo della sua produzione, che è Terre del Finimondo, Terras do Sem Fin. Il primo libro pubblicato e venduto in Brasile senza nessun intervento della censura dopo ben sei anni in cui le sue opere erano state messe al bando. Le terre del Finimondo sono le foreste amazzoniche che si estendono a sud dello stato di Bahia, viluppi fantastici di piante, di animali, luoghi di meraviglie, di portenti, di pericoli a volte fatali. Protagoniste queste terre di quella corsa al cacao che insanguinerà tutta la zona per diverso tempo. Queste zone della foresta in cui dal principio del secolo l'uomo comincia a penetrare sostituendo a tronchi secolari e ad animali selvaggi le distese di piantagioni di cacao. Grande protagonista del romanzo quindi è la foresta con i suoi tronchi centenari, paradiso di uccelli, rifugio di giaguari, ma Amado racconta la lotta tra due famiglie di Fasenderos che cercano di farsi largo nella foresta, in questa foresta centenaria, a volte ancora inesplorata, per strappare alla foresta quella terra fertile senza eguali per la coltivazione del cacao. Una saga quindi di violenza e di morte assieme. La selva era una vergine la cui carne non avesse mai sentito la fiamma del desiderio e come una vergine era bella, radiosa, fanciulla, misteriosa come la carne di donna non ancora posseduta e ora era anche desiderata. Nato lui in una facenda di Tabuna, cresciuto a Elieus, Amado conosce molto bene queste terre del finimondo, coperte interamente dalle foreste che i Fasenderos appunto stanno in quegli anni abbattendo per fare spazio alle piantagioni. Mi rimase così profondamente colpito fin da piccolo di questa esuberanza della natura che gli dedica a queste terre ben tre romanzi, dove tra vite vite violente e sanguinose coinvolte in quella che a volte è una vera e propria guerra per l'accappararsi il terreno e per creare una nuova piantagione. In queste guerre c'è comunque in sottofondo questa natura che è violentata dalle imboscate, dalle ingiustizie, dai soprusi, dove si muovono i protagonisti che sono i Fasenderos, gli avvocati senza scrupoli, gli avventurieri dell'ultima ora, i mercenari al soldo dei più potenti, ma anche i semplici contadini, quelli con la pelle bruciata dal sole, butterata dal vaiolo, quelli che se la cavano trovano trovando lavoro nelle piantagioni o se sono donne facendo nient'altro che le prostitute. L'albero che dominava Ileus era quello del cacao, anche se non se ne vedeva uno solo in tutta la città. L'albero del cacao bisognava cercarlo dietro tutta l'esistenza di San Giorgio dos Ileus, dietro ogni affare che vi si concludeva, dietro ogni casa che si ricostruiva, dietro ogni magazzino, ogni negozio, ogni pena d'amore, ogni colpo di fucile o di rivoltella. Non c'era conversazione il cui nocciolo non fosse il cacao. E sulla città alleggiava, esaltato dai magazzini di deposito, dai vagoni ferroviari, dalle stive delle navi, dai carri, dalla gente, quell'odore di cioccolata, che è l'odore del cacao rinsecchito. Da tutto il nord del Brasile partiva gente verso queste terre del sud dello stato di Bahia. La sua fama era andata lontano, si diceva che il denaro scorreva come un fiume che a Ileus nessuno badava alle monete d'argento da 2000 reis. Le navi vi approdavano cariche di emigranti, di avventurieri di ogni sorta, di donne di ogni età e per tutti costoro Ileus era la prima, o forse l'ultima speranza. Il romanzo però è anche un inno, un inno d'amore, un amore profondo per questo suo paese così tormentato e così violentemente sfruttato. Il Brasile è la somma meravigliosa di ogni possibile contraddizione. In ogni uomo veramente brasiliano scorre un sangue ricco di fermenti europei, africani, indios, meticci ed è proprio questo che rende il Brasile così magicamente pieno di luci ed ombre, così fragile, allegro, violento e tuttavia così impossibile da dimenticare. Nel 1944 Amado, a 32 anni, diventa il direttore della sezione Ora da guerra, Ore di guerra, del giornale O Imparzial, giornale di Salvador di Bahia, in cui scrive piccole storie in una colonna fissa dedicata, José o Ingenuo, José l'Ingenuo. Ma il suo matrimonio, dopo 11 anni, è ormai arrivato al capolinea, mille incompressioni, litigi e alla fine decide di separarsi dalla moglie. In compenso, continua ad essere prolifio, a scrivere e quasi come una continuazione ideale di Terre del Finimondo pubblica il romanzo I padroni della terra, dove ci riporta in quello stesso clima fantastico di grandi spazi della foresta ammazzonica. Se il primo romanzo descriveva le guerre intestine tra i latifondisti che si contendevano e facevano abbattere immessi spazi di foresta per sfruttare la terra fertile, qui Amado racconta invece quello che avviene ai personaggi superstiti, quando gli esportatori di cacao, capitanati da un americano, un tedesco e un brasiliano, tendono a una specie di trappola ai proprietari terrieri locali per far prima lievitare il prezzo e poi precipitare la quotazione del cacao. Chiaramente per strappare le proprietà ai latifondisti e diventare loro e solo loro i padroni della terra. E sullo sfondo c'è ancora la città di Leusch, la regina del sud. Un tempo c'era soltanto foresta vergine, lussureggiante e selvaggia, ma i frutti d'oro del cacao hanno portato la ricchezza e alle povere baracche molto vicine alla giungla si è sostituita una vera e propria città affascinante e corrotta dove convivono gli aspetti più diversi di ogni esistenza. Sulle piantagioni Leusch ha costruito la sua realtà, i suoi sogni, la sua ricchezza, ma anche la dura lotta per la sopravvivenza dei salariati, il sogno del benessere e la miseria, dall'eccitazione dei bordelli e del gioco d'azzardo e le sopraffazioni di chi crede soltanto al diritto del più forte. Carlos Sude sorrideva, i padroni della terra. Aveva detto un giorno a Cuglietta che in futuro sarebbero stati loro i padroni della terra. Lui e Carbanks, i Rauschnin, gli Schwarz, Reicher, Antonio Ribeiro, gli esportatori di cacao, loro erano i padroni. Quando avranno le terre, le facendas, non dipenderanno più dai coronè. Sui libroni contabili della ditta Sude, Irmao e in compagnia, come su quelli delle altre ditte esportatrici, aumentava il debito dei coronè in concomitanza al rialzo del cacao. Carlos sorride come un guerriero che fa il bilancio della battaglia e constata che tutto va bene. Era un piano magnificamente tracciato e l'idea era stata proprio la sua. È vero che non avrebbe potuto realizzarla se Carbanks e Schwarz, ma soprattutto Carbanks, non lo avessero aiutato. Era passato solo un anno da quando era sceso da un aereo e aveva convocato gli esportatori all'associazione commerciale. Sergio Mura annusava un bocciolo di rosa, sembrava che ridesse di loro. Un povero diavolo, pensa Carlos. A che serviva la poesia? Non era solo nei versi che c'era bellezza, anche nella lotta che lui stava conducendo vittoriosamente c'era un'infinita bellezza. Pochi, pochi se ne rendevano conto. I coronè non lo immaginavano neppure, solo i comunisti distribuivano volantini, ma la polizia li pedinava, quando ne acciuffava uno lo metteva in prigione oppure lo deportava. Poca gente sapeva che lui, Carlos, esportatore di cacao, era un guerriero, l'eroe di una dura battaglia. Ma Giulietta lo sapeva e tanto non bastava. Nel periodo immediatamente successivo alla separazione della moglie, Amado condusse un periodo di vita irregolare, con brevi relazioni, con una grande quantità di donne che andavano e venivano. Ma poi nel gennaio del 1945 partecipa come delegazione brasiliana al primo congresso degli scrittori a San Paolo. e durante una cena, in omaggio ai partecipanti del congresso, gli viene presentata una scrittrice, Zelia Gattai, figlia e nipote di anarchici italiani emigrati in Brasile. Ricordo, era di pomeriggio, farsi sera, l'avevo notata nei giorni precedenti. Le chiesi se poteva restare ad aiutarmi, volevo fare un comunicato stampa. C'era anche un altro uomo, un fisico famoso, che le aveva chiesto la stessa cosa. Lei decise di venire con me, io la feci sedere alla macchina per scrivere e cominciai a dettare, serissimo. Lei, candida, mi disse che era ben contenta di aiutarmi, ma che non sapeva assolutamente battere a macchina. E io allora sbottai, ma lei è completamente inutile allora. Sono completamente pazza, altro che inutile, mi rispose. Il congresso terminò con una manifestazione l'ennesima contro il governo brasiliano e per questo chiaramente venne di nuovo incarcerato, anche se per un periodo abbastanza breve. Scarcerato poi, divenne redattore del giornale Oggi, l'organo ufficiale del Partito Comunista brasiliano. Intanto è sempre un attivista e durante i comizi in cui si batte per l'amnistia per i prigionieri politici, incontra di nuovo lei, Zelia Gattai, che fa parte di un gruppo di lavoro. Da quel momento ha inizio la loro lunga storia d'amore. Mi innamorai di Zelia e lo dissi a Paolo Mendes de Almeida, mio e suo amico, indicandola tra le tante che venivano ad ascoltare i dibattiti e molte per avere delle storie con me. Dissi, sai, quella sarà mia moglie. Paolo rise e rispose, quella, quella chi, Zelia? Ma non è una donna per te, è onesta, non è di quelle che tu seduci, dimenticatela. Zelia era reduce anche lei da un matrimonio finito presto e lui ormai era definitivamente separato dalla moglie. Insomma, in sei mesi accettò la sua corte, divenne la sua compagna di discussioni, di sogni, di tutta una vita. Andò ad abitare con Giorgi e da quel momento non si lasciarono mai più. Ma i guai con la giustizia per Amado non sono finiti. Siamo nel luglio del 1945. Quella volta mi arrestarono con l'inganno, me e 500 altre persone. Un pomeriggio mi aveva telefonato il mio editore per dirmi che un grande proprietario terriero aveva appena acquistato tutti i miei libri usciti fino a quel momento. Era a San Paolo e avrebbe avuto piacere di incontrarmi per una dedica. Risposi che mi andava bene il giorno dopo, alle 4, e diedi un appuntamento là, vicino agli uffici dove lavoravamo, in pieno centro. Quando il giorno dopo mi presentai con un po' di anticipo, c'era sì il mio lettore, ma anche il commissario della polizia politica, che tutti conoscevamo molto bene, celebre per la sua estrema brutalità. Venni arrestato e quell'altro, il proprietario terriero che non c'entrava nulla, fu arrestato anche lui. Ci portarono alla centrale e c'erano almeno 500 altre persone. Avevano fatto una vera e propria retata. Mi trattennero per poco, mi rilasciarono senza nessuna spiegazione, come senza spiegazione mi avevano messo dentro. Appena arrivato a casa, cominciavo la sfilata dei familiari, di quelli che erano ancora dentro. Volevano sapere perché, come ero stato liberato, che ne era degli altri. Mi ricordo soprattutto una spagnola di una certa età. Era madre di un attivista sindacale, bellissima, Isabel si chiamava, e ne ero diventato amico. La madre venne da me, urlava come uno sessa, mia figlia è vergine, non so di che cosa mi considerasse responsabile, se della verginità di Isabel o del fatto che io ero libero e lei no. Comunque sia, in breve furono messi fuori tutti, tutti, tranne il mio povero lettore, che veniva da non so che paese lontano, non c'erano familiari che si dessero da fare nell'immediato, e restò dentro più di tutti gli altri. Poi i suoi, non avendo più notizie, cominciarono a farlo cercare negli ospedali, negli obitori, finì per essere rilasciato anche lui, e credo che abbia buttato tutti i miei libri e non ne abbia mai più comprato un altro in vita sua. Intanto la vittoria degli alleati, quindi anche del Brasile, rafforzò l'opposizione interna al governo Vargas, e di fronte al crescere del malcontento popolare fu permessa la ricostituzione dei partiti politici, compreso quello comunista, indette nuove elezioni, e Vargas il 29 ottobre del 1945 venne deposto da un ennesimo pronunciamento militare. Anche se però i partiti nel frattempo si erano riorganizzati, così Amadu nel 1946 viene eletto deputato federale nelle fila del Partito Comunista, partecipa all'Assemblea Costituente e alla prima Camera federale per il nuovo Brasile. Girando il paese aveva visto gli squadroni dei cattolici bruciare le chiese dei protestanti, perseguitare le religioni africare, cercare di cancellare la magica atmosfera del candomblé. Per cui si fece promotore di due leggi, una sul diritto d'autore e l'altra sul diritto alla libertà religiosa, che pensate sono ancora in vigore oggi nel Brasile odierno. In quel 1946 viene pubblicato intanto un suo nuovo romanzo, un altro romanzo molto impegnato, molto politico, che si intitola Messe di sangue, che in italiano ha anche la traduzione di Il cammino della speranza. Amadu scrive questo libro che è collocato nel Brasile degli anni 30, dopo il crollo del mercato del caffè, un periodo segnato da grandi conflitti sociali, che vede prima nel 1935 una rivoluzione comunista fallita e poi nel 1937 l'instaurazione del regime poliziesco, quell'estado nuovo di Retulio Vargas. Amadu è per questo attualissimo, racconta la lunga marcia della miseria, è la cronaca dell'esodo di un gruppo di sventurati contadini, sfrattati dalle terre che coltivano e dalle loro misere abitazioni, perché la loro facenda è passata dalle mani del frivolo e distratto piano a quello di un facendero senza scrupoli e senza coscienza. Mettono insieme i loro stracci, i loro bambini, le ultime forze che rimangono, e iniziano il loro cammino della speranza che ha come meta San Paolo, che agli occhi dei contadini si tinge quasi di colori mitici, il nuovo Eldorado, un'oasi dove è garantito il possesso di un pezzo di terra. Sono migliaia e migliaia che si succedono senza sosta, e mentre questi scendono in direzione di Montes Claros, salgono quelli che tornano delusi dall'esperienza di San Paolo, ed è difficile, se non impossibile, stabilire quali sia la miseria maggiore, se quella di chi parte o quella di quelli che tornano indietro con nessuna più speranza. Ma a dominare ancora una volta è la terra dispensatrice di vita e di morte. Badate, sembra di leggere furore di Steinbeck, se non fosse che questo è stato scritto dopo il libro di Steinbeck. E quindi, voglio dire, il tema è sempre questo, i poveri che cercano un Eldorado, e poi l'Eldorado si rivela più terribile di quella situazione da dove provengono. Nel 1947 lui pubblica O Amor de Castro Salves, e produce un mezzo pezzo teatrale intitolato Amor do Soldato. È una delle poche produzioni teatrali di Giorgi, poi si dedicherà in un certo periodo al cinema, e scrive anche parecchie sceneggiature originali per il cinema. Intanto gli è nato il primo figlio avuto dalla sua nuova compagna, che appunto nasce il 25 novembre del 1947 a Rio de Janeiro. Ma la vicenda politica del Brasile non ha tregua. Il maresciallo Eurico Gaspar Dutra, questo signore impettito mette fuori legge i partiti, dichiara illegale il Partito Comunista, tutti i suoi membri vengono arrestati se non perseguitati, e quindi anche il mandato di Amadu nella Camera dei Deputati viene revocato, e di nuovo i suoi libri vengono messi al bando come sovversivi. A questo punto Amadu è costretto nuovamente all'esilio, e nel dicembre del 1947 prima scappa in Italia, poi in Francia. Nel gennaio del 1948 il suo appartamento a Rio de Janeiro viene invaso dalla polizia, vengono sequestrati tutti i suoi libri e i suoi quaderni, e lui viene dichiarato ufficialmente un autore sovversivo bandito dal Brasile. E subito dopo questo avvenimento Zelia con il figlio, con il piccolo figlio parte, parte per Genova, dove li attende Giorgi, e insieme da lì raggiungono Parigi. E a Parigi lui partecipa intensamente alla vita culturale europea, fianco a fianco ad altri esuli come Pablo Neruda, o ad altri grandi luminari del periodo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Ma nel 1950 lui e Neruda devono riprendere le valigie, perché anche in Francia un governo più restauratore li espelle, li manda via, sono anche loro ospiti sgraditi. Sarà forse uno dei dolori più cocenti della sua vita, quando anche la Francia, che lui considerava la sua seconda patria, gli chiuderà la porta in faccia, anche se non sarà un abbandono definitivo. Parte, scampa fortunatamente a un incidente aereo nei pressi di Francoforte, perché si sta recando in Cecoslovacchia, dove deve partecipare al congresso dell'Unione degli Iscrittori. E' a Dobris, in questo bel castello. Poi si rifugia a Praga, dove inizia a scrivere Il mondo della pace, un libro sui paesi socialisti, dove lo raggiunge anche la notizia che è morta improvvisamente la figlia Eulalia di soli 15 anni. Nel gelo psicologico di questo paradiso socialista, Amadu ricorda con rabbia che ha lasciato la sua patria e riconosce l'orrore e l'errore dell'esilio. Doveva restare a qualsiasi costo nel suo Brasile, invece era lì, in quel castello di Praga, dove incomincia ad angosciarsi, dove era pura illusione credere di essere arrivati in un paradiso che non è tale come si immaginava. È un po' come quei dereliti del suo romanzo che abbiamo appena citato. Dal 50 al 52 Giorgi abita in Cicoslovacchia, da lì viaggia insieme alla famiglia in Russia, in tutta l'Europa dell'Est, è invitato a vari congressi del Partito Comunista. Intanto gli nasce la seconda figlia, Paloma, e viaggia anche in Cina, in Mongolia, ma poi ha la notizia che finalmente nel suo Brasile, nel 1952, le cose stanno cambiando. E lui, a 40 anni, può finalmente ritornarsene a Rio de Janeiro. Erano gli anni della guerra fredda, delle dittature in America Latina, ma il Brasile, dopo cinque anni di volontario esilio, aveva rieletto come presidente Getulio Vargasch, con l'entusiastico appoggio dei sindacati, della borghesia, dei settori dell'esercito, in cui vedevano in lui il salvatore della patria, che era il baluardo contro la penetrazione economica degli Stati Uniti. Vargasch creò addirittura, fra le altre cose, l'Agenzia Nazionale per lo Sfruttamento del Petroglio, quella che c'è ancora oggi, che si chiama Petrobras. Ma Amadu, ritornato in patria, non ha finito i suoi guai con la giustizia. Viene processato per il libro O Mundo da Pals, ma alla fine il giudice archivierà il caso, perché il libro sarà definito settario, ma non del tutto sovversivo. Con l'approvazione poi della legge anticomunista negli Stati Uniti, siamo nel periodo del maccartismo, della caccia al rosso, lui avrà la proibizione di entrare negli Stati Uniti, tradotti in inglese, verranno in questo caso banditi dalle librerie statunitensi. Intanto nel 1953 viaggia, viaggia ancora in Sud America, in Argentina, in Cile e poi ritorna anche in Europa. È diventato direttore di una collana, i romanzi del popolo, dell'editrice Vittoria, e rimarrà in quella carica fino al 1957. Intanto uscirà la quinta edizione del Mondo O Mundo da Pals, ma Amado poi ne vieterà qualsiasi altra riedizione. Infatti, mentre era esiliato per motivi politici, Amado aveva deciso che dopo aver raccontato il mondo dei contadini, degli umili, doveva in un certo qual senso affrontare più sistematicamente la storia del suo Brasile, la storia politica di quel Brasile che era passato da una dittatura all'altra negli anni 30. E mentre era a Isola e a Praga, inizia a scrivere quella che è una trilogia che ha come titolo I sotterranei della libertà, dove mescola vicende e personaggi di tutti gli strati sociali, inventa storie e ne scrive di vere in questi fondali squalli di metropolitani o tropicali selvaggi. Un ritratto di quei drammatici momenti che ha vissuto il suo Brasile gli anni precedenti, la Seconda Guerra Mondiale, in cui Amado dava forza ancora una volta alla propria passione politica, alla denuncia sociale, alla denuncia della repressione, della violenza, a quel desiderio di giustizia e di speranza che era molto vicino a un'utopia, ma un'utopia che sembrava ancora a portata di mano. Ma è anche un romanzo capace di creare fin da subito, quasi cinematograficamente, la descrizione di quei luoghi, del porto di Santos e dell'inconfondibile atmosfera tropicale fatto di immagini, odori, suoni. I magazzini a perdita d'occhio rigurgitanti di sacchi di caffè, di caschi di banane, di balle di cotone, rotaglie, automobili, frigoriferi, radio, strani macchinari, conserve e frutta scendevano appesi alle gru, ripescati dal ventre profondo delle stile buie delle navi da carico ancora nel porto. Un profumo dolce di mele mature si mescolava all'odore salmastro del mare. Anche la melodia malinconica di una canzone marinara si mescolava al frastuono assordante delle gru, alle grida degli scaricatori e degli equipaggi, alle sirene delle navi. I protagonisti sono lui, il negro Doroteo, questo è un bel quadro di Candido Portinari, e una negra in Assia e i loro amici che sono protagonisti del primo sfortunato sciopero quando gli scaricatori del porto si sono rifiutati di imbarcare il caffè offerto da Vargas al caudiglio Francisco Franco di Spagna. Tutto il libro, a partire da lì, sarà il racconto sofferto da parte di questo protagonista deluso, dei fallimenti di una classe operaia troppo impreparata ma già traspare anche in Amado il suo amore per la donna. Nella descrizione della bellezza della negra in Assia, odorosa di garofano e cannella, quel profumo che diventerà addirittura il titolo del suo prossimo fortunato romanzo, simbolo di tutte le donne e di colore di tutte quelle donne che entreranno nella letteratura universale da un lato per i suoi romanzi e dall'altro per questa invenzione inconfondibile dell'atmosfera baiana e brasiliana. Quando Amado finisce di scrivere la trilogia La storia del Brasile è di nuovo a una svolta. Nel 1954 Vargas, che era stato obbligato dai militari alle dimissioni per aver ordinato l'attentato a un leader comunista, travolto Vargas da quest'ultimo delitto, si uccise, si suicidò il 24 agosto del 54 e lasciò una specie di testamento politico in cui attaccava i gruppi anti-brasiliani accusandoli di essere la causa di ogni suo insuccesso. E sarà proprio in quel 1954 che a San Paolo uscirà la trilogia I sotterranei della libertà. Ma ormai quei libri sono fuori tempo, tante cose sono cambiate, lo stesso Amado ormai si sente un po' estraneo in quello che aveva creduto potesse essere il suo mondo e i suoi ideali vengono massacrati ogni giorno. Lentamente il Brasile ritrova la propria libertà, i militari se ne vanno, viene eletto un presidente Kubitschek che fonda la sua politica sul progresso tecnico-industriale indispensabile per il progresso generale del suo paese e è arrivato anche per Amado il momento di ritornare nella sua Bahia e già al suo ritorno in Brasile aveva ormai maturato la scelta di uscire dal partito comunista. Nel 1956 anche a seguito dei fatti di Ungheria che furono un vero e proprio trauma per molti comunisti in tutto il mondo lui lascia tutti gli incarichi nel partito si dedica alle sue storie decide di non impegnarsi più politicamente ma diventare il grande cantore del popolo brasiliano. E uscirà dal partito comunista senza rinnegare nulla ma con la motivazione di poter trovare la sua libertà scrivendo senza nessuna remora. la fine della sua militanza politica che lo aveva visto decisamente impegnato in prima linea essendo rappresentante del partito comunista dell'epoca coincide anche con un cambio totalmente di vita e di vita letteraria abbandona le tematiche di denuncia sociale di esattazione della lotta di classe e modifica il proprio stile di scrittura lasciandosi prendere da quella magia fantastica dei costumi e delle tradizioni del suo Brasile. Sono sempre storie della sua gente del suo mondo multiraziale antico e nuovo l'epopea del cacao ma anche il sorriso delle mulatte la vita e la fantasia memorie e invenzioni tutto mescolato e un altro elemento determinante di questo suo cambiamento è la sua sempre maggiore attenzione per il candomblé quella religione afro-brasiliana mista di tratti naturalistici e di elementi cristiani i cui santi vigilano allegramente sulle vite ingarbugliate di tutti i suoi personaggi. Diventa direttore responsabile nel 1956 di un quindicinale che si intitola Paratodosh per tutti insieme al fratello e tra gli altri anche a Oscar Nehmeyer. L'anno dopo viaggia in Oriente con la moglie Selia gli inseparabili amici Pablo e Matilde Neruda e quello stesso anno un produttore cinematografico italiano Carlo Ponti compra tutti i diritti del suo romanzo Mar Morto ma il film tra mille indecisioni non verrà mai realizzato. Tornato l'anno dopo in Brasile si rifugia nella tranquillità di Petropolis nello stato di Rio de Janeiro una cittadina in mezzo alla foresta ancora oggi una popolare destinazione di vacanza brasiliana e qui in totale tranquillità scrive il primo dei suoi libri della sua nuova maniera che si intitola Gabriela Garofano e Cannella è un librone di 453 pagine che riesce a finire di scrivere nel maggio del 1958 e la sua prima edizione brasiliana diventa un tale successo che a dicembre di quello stesso anno viene ristampata la sesta edizione. Seguono molte traduzioni in tutto il mondo il romanzo diventerà il suo più grande successo internazionale addirittura l'amico Jean-Paul Sartre definirà questo romanzo la migliore novella folk di questo secolo ma di questo romanzo e di Amadou continueremo a parlare la prossima settimana nei nostri prossimi due incontri in cui appunto avremo il piacere di vedere questa seconda seconda vita letteraria appunto del nostro scrittore. Grazie per avermi seguito e buon pomeriggio. e buon pomeriggio.